e ora cedo la linea dopo settimane di silenzio al nostro inviato spaziale grazie della linea TG Wide oggi siamo in collegamento da Monte della Madonna a Teolo in provincia di Padova ragazzi veramente un Monte della Madonna e siamo qua per uno scoop veramente sensazionale abbiamo incontrato una persona che ha appena visto la Madonna ebbene come è andata? Ci racconti? veramente incredibile una testimonianza incredibile non abbiamo capito una mazza grazie della linea a cui è da Teolo è tutto a te la linea TG Wide Stai registrando? No, vero? Cosa fate in questo sito? Faccio il confuso che ha appena visto Felice Voi fate degli sketch tipo delle scenette? Ne vi ero vattene Sì che mi vergogno Vabbè Sissata è un dito della mano davanti qua davanti all'obiettivo Intanto ho messo di qua a bere No, sapete perché? Perché quelle ragazze da in fondo volevano fare un altro soccorato però non... Eh ma purtroppo noi cerchiamo come si fa Da Teolo è tutto Monte della Madonna a Teolo è tutto Oh Dino Marlo Dai Di Gwave Tiere above hoo